Benvenuti su Viral Gossip News. Prima di cominciare, ti incoraggiamo a iscriverti al nostro canale e attivare le notifiche, in modo da rimanere sempre aggiornato. È un semplice atto, ma per noi è di grande importanza. Ti ringraziamo. Il mondo del cinema italiano è in lutto, la terribile notizia è appena giunta pochi minuti fa. Purtroppo, nelle scorse ore, ci ha lasciato una grande icona. Sto parlando dell'attrice Paola Gassman, figlia di Vittorio e protagonista, insieme al marito Ugo Pagliei, della scena teatrale italiana. Era malata da qualche tempo. A dare la triste notizia è stato il compagno di una vita, l'attore Ugo Pagliei, insieme ai figli Simone e Tommaso e a tutta la famiglia. I suoi genitori erano Vittorio Gassman e l'attrice di Prosa Nora Rich. Inoltre, era sorella di Vittoria Gassman, Alessandro Gassman e Jacopo Gassman. Tra i suoi spettacoli più significativi ricordiamo la cucina di Weskern diretta da Lina Vermeuler, il processo di Famiglian di Diego Fabri, Cesare o nessuno né in fa male il teatro, in cui è stata diretta dal padre Vittorio Gassman negli ultimi anni. Compagna di Pagliei, conosciuto ai tempi dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica il Silvio D'Amico, si era dedicata anche alla poesia. Nel 2007 ha pubblicato con Marsilio l'autobiografia in una grande famiglia dietro le spalle. Da Pagliei ha avuto il figlio Tommaso dall'ex attore Luciano Virgilio e la figlia Simona. Se volete lasciare un messaggio di cordoglio fatelo nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere prossimi video e news.